Dopo aver provato a spiegarvi come avvicinarsi alle rivoluzioni solari, oggi vi spiego alcune cose relativamente alla mia esperienza personale sulle rilocazioni del cielo di rivoluzione solare o lunare, cioè sulle cosiddette rivoluzioni solari o lunari mirate. Ho sufficiente esperienza per poterlo fare? Giudicherete voi. Io non amo farmi bello di cifre mirabolanti e di statistiche esatte e ponderose, ma posso dirvi in tutta sincerità e onestà che una delle mie prime rivoluzioni solari, calcolata a mano e già allora tenendo conto della località in cui mi trovavo, risale al 1982. Quell'anno avevo trascorso il mio compleanno a Bergamo e avevo appena scoperto questo metodo di previsione su alcuni nuovi testi di astrologia che spiegavano anche le rivoluzioni solari. Da allora, tutti gli anni, ho calcolato la mia rivoluzione solare e quella delle persone a me più vicine, più la rivoluzione solare di quelle persone che me la chiedevano come consulto astrologico, amichevole o professionale. Per non parlare poi delle rivoluzioni solari e lunari di colleghi, amici, parenti, compagni di studio di cui sono venuto a conoscenza in tutti questi anni. Loro mi avevano dato i loro dati di nascita, magari per farsi fare il tema natale, e io, sapendo dove si trovavano nel momento del ritorno solare, magari perché ci studiavo insieme o ci lavoravo insieme, potevo calcolarmi la loro rivoluzione solare o lunare e seguire l'andamento dei giorni successivi o dei mesi successivi, a seconda del caso. Dal 1999, poi, ho iniziato a rilocare, cioè a mirare, le rivoluzioni solari mie e di mia moglie, ma non tutti gli anni. In ogni caso, ho sempre considerato e disegnato il grafico tenendo presente la località dove uno si trova in quel momento. Come ho spiegato in più riprese in altri video sul mio blog e su Facebook, diversi autori suggeriscono questa modalità di calcolo, cioè che il cielo di ritorno solare non vada domificato per il luogo di nascita o quello di residenza abituale, ma proprio per il luogo in cui il soggetto si trova in quel preciso momento, indipendentemente dal motivo per cui ci si trova. Dunque, a questo punto potete calcolare voi stessi quanti grafici posso avere disegnato e studiato in questi trent'anni rotti da quando ho iniziato le mie prime esperienze con le mie prime rivoluzioni solari e lunari. Ebbene, che siano tanti o che siano pochi, questi anni mi hanno portato a formulare alcune conclusioni su questo metodo. Vediamoli insieme. Primo. Il cielo di ritorno solare va studiato sempre con un occhio attento al tema natale del soggetto e ai transiti che si formano nei dodici mesi di durata di quella rivoluzione solare. E' sempre il caso di ribadirlo, perché non tutti sembrano saperlo. Questo significa che io personalmente non me la sento di consigliare una rilocazione del cielo di rivoluzione senza prendere in considerazione attentamente questi altri due fattori altrettanto importanti, il tema natale e i transiti. Secondo. Per quello che può essere la mia modesta esperienza pratica, ho l'impressione che la rivoluzione solare non sia sempre e necessariamente più importante rispetto ai transiti. Certamente ci sono alcuni transiti particolarmente critici, sia in positivo che in negativo, che possono entrare in sinergia col cielo di rivoluzione. E dobbiamo sapere quali sono e studiarli con particolare attenzione. Questi transiti concorrono la formazione dell'indice di pericolosità dell'anno, che è un dato importante che consulto spesso per valutare l'effettiva pericolosità o bontà di una rivoluzione solare. Terzo punto. Quando si parla di pericolosità o bontà di una rivoluzione solare o lunare o anche di un transito, in realtà credo che si tratti di una pericolosità o bontà potenziale. Questo anche perché credo fortemente nella necessità di non alimentare timori nel consultante, ma nemmeno nutrire in lui eccessive aspettative, pur ritenendo altrettanto doveroso avvertirlo, se me lo chiede, di possibili criticità presenti nel tema natale, nei transiti, nei cieli di rivoluzione, eccetera, ma sempre senza avere né trasmettere certezze assolute, che secondo me in questo campo semplicemente non esistono. Quarto. La questione del karma, ovvero senza necessariamente tirare in ballo il karma, quella del nostro destino. Un'obiezione che mi viene rivolta abbastanza spesso è questa. Rilocando il cielo di rivoluzione solare, non è che per caso andiamo contro a quello che è il nostro tema natale. Se noi dobbiamo fare un percorso evolutivo, addomesticare la rivoluzione solare tramite la rilocazione non ci fa a crescere, in quanto naturalmente si cresce nelle difficoltà. È un po' come sprecare l'occasione di una vita già predesignata. Naturalmente se ci si deve spostare per altri motivi questo non conta. Ecco questa è l'obiezione che è legittima. La mia risposta è che in realtà la portata dei cambiamenti che può produrre la rilocazione del cielo di rivoluzione solare vada un po' ridimensionata. I transiti per esempio sono spesso più importanti delle rivoluzioni solari e lunari, per quella che è la mia personale e modesta esperienza. Spesso anche le direzioni possono essere molto significative e sono tutte cose che non si possono rilucare, cioè non si possono modificare o evitare se non provando a utilizzare le possibilità offerte dall'esorcizzazione dei simboli. Da questo punto di vista andare o restare rimane una decisione che non definirei poi così tanto fatidica. In realtà noi prendiamo numerose decisioni nella nostra vita, come per esempio quella di fare un viaggio, di parlare con una certa persona, di iniziare o abbandonare una certa attività o anche quella di uscire di casa o di restare in casa in un giorno qualsiasi. Ma non sappiamo mai molto delle reali conseguenze dei nostri atti. Quella che può sembrare una decisione da poco potrebbe scatenare una serie di eventi decisivi nella nostra vita. Al contrario, una nostra decisione dalla quale ci aspettiamo grandi cose potrebbe rivelarsi del tutto sbagliata o ininfluente. Questi sono i misteri della vita sui quali anche un buon astrologo difficilmente può avere una visione migliore o più lungimirante di altri. Per quel che riguarda poi la crescita attraverso il dolore avrei qualcosa da dire. È un istinto naturale e perfettamente umano il voler evitare possibili problemi o dolori. Ma è altrettanto giusto e corretto sforzarsi di affrontarli prima o poi. Perché nessuno è così fortunato da vivere nella bambagia per tutta la vita. E non è nemmeno pensabile che uno tutti gli anni possa sfuggire a un qualcosa che potrebbe anche essere teoricamente ineluttabile, magari perché è già scritto nel suo cielo di nascita o nei suoi transiti o altro. Quindi sì alla fuga da questo punto di vista, ma no a una vita perennemente in fuga da qualche cosa. Quinto. Conosco molte persone che fanno la rilocazione di due, tre, quattro rivoluzioni solari. Poi smettono. Perché ritengono di avere risolto i loro problemi contingenti. Avere raggiunto un loro scopo. Oppure anche perché ritengono di avere comprovato che il metodo della rilocazione non ha portato ai risultati che speravano. Trovo questo atteggiamento corretto, anche se personalmente consiglio di farsi calcolare e controllare la rivoluzione solare tutti gli anni. Non è necessario riloccarla tutti gli anni. E quando anche fosse opportuno farlo non è detto che bisogna andare in capo al mondo. Sono cose che si valutano di volta in volta. L'importante, e qui finisco il mio intervento per oggi, è farlo sempre con buon senso e senza mai indurre o alimentare in nessuno apprezzioni, timori o aspettative irreali. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Arrivederci al prossimo video.